Si indaga anche per omicidio per la morte di Lorenzo Pucillo, il medico sociale della Zeta Picerno, trovato morto mercoledì 22 marzo in un terreno agricolo di sua proprietà in località Bosco Le Rose a Pesco Pagano. In un primo momento si era ritenuto che la morte del settantenne fosse avvenuta a causa dell'attacco di un bovino, probabilmente un vitello. L'uomo era un appassionato di animali ed era proprietario di una piccola azienda agricola con alcuni capi di mucche podoliche, razza tipica della zona. Il cadavere di Pucillo, rivenuto in un cespuglio da un agricoltore che ha subito allarmato le forze dell'ordine, inizialmente è stato trasportato all'ospedale di Pesco Pagano e poi trasferito all'obitorio del San Carlo di Potenza, dove è stata eseguita l'autopsia dal medico legale Mauro Ciavarella, incaricato dal giudice Giuseppe Borrelli. Stando a quanto trapelato, a seguito dell'indagine sarebbero state scoperte varie ferite sul torace compatibili con colpi di arma da fuoco, in particolare di un fucile a pallini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Melfi e della stazione di Pesco Pagano, che in questo momento non escludono alcune ipotesi. Sembrerebbe infatti che Pucillo, nei mesi scorsi, avesse avuto dei dissidi per questioni di natura privata.